e ci sono queste competenze nel nostro stato sono in via di formazione siamo in ritardo direttore dobbiamo essere da questo punto di vista molto franchi e molto onesti non è sufficiente avere un apparato tecnologico averlo acquistato per poterlo far funzionare perché ci vuole consapevolezza visione strategica e competenza in parole povere anzi in questo caso ricche manca la cultura digitale e quindi anche la cultura della cyber security vede lei direttore prima giustamente ha detto se la si confonde alle volte con la dimensione di Q del personaggio straordinario che accanto a James Bond arricchiva le storie di Fleming il problema vero è che la cyber security non può essere affidata esclusivamente ai privati come molto spesso avviene non può essere affidata alle grandi measure dei social o delle telecomunicazioni perché rappresenta un presidio troppo importante a livello istituzionale ma la pubblica amministrazione lo stato in generale ha accumulato un ritardo di approccio alle tecnologie e alla rivoluzione digitale come stiamo osservando e si osserva che ha rallentato anche lo sviluppo di questa consapevolezza pertanto si sta recuperando si sta facendo molto indubbiamente ma siamo lontani dagli standard di altri paesi con i quali ci confrontiamo